Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Leonardo Bardazzi. Per il momento il traffico scorre regolare in Fipilì e in tutta la rete autostradale toscana. In A1 per lavori in direzione Bologna, corsie interne chiuse tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Ancora in A1 stanotte per lavori in orario 22.6, sarà chiuso il tratto tra Barberino del Mugello e Calenzano in entrambe le direzioni. Sulla Fipilì restringimento di carreggiata nel tratto tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze. Ancora in Fipilì dalle 21 di domani fino alle 6 del 4 ottobre per lavori chiusura della carreggiata tra La Strassigna e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni. Sulla Firenze Siena scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 Firenze in Pruneta in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A1 Firenze in Pruneta in Parma.